c'è anche la live su questo c'è anche un bel video aaaaaah ho capito quale c'è i graffi aaaaaaaaaah sei montato eh sei montato, vieni innamorati che buona una di i graffi eh dov'è che stanno i graffi? perchè? non vale perchè stanno sull'arberi c'è ho fatto il tutorial ma non ho mai visto un graffi in vita ma si vede con un'abilità buono sai che non so se c'è un killer che corre mi sa quello lì che sta curvo lì ma non lo so non è detto io per adesso il cacciatore che sta andando in giro lo voglio fare al massimo tutto il cazzo che della trappola in mano però no vada dove sono dove sono finito che è mortato cioè sono finito dove meno bloccato io l'altra volta che non sapevo come cazzo andare avanti qui chi è? chi è che c'è? è mortato è mortato non è che non trovo nessuno ma ho trovato qualcuno ah eccoli grazie infatti non l'ho mai visto moddato che dove cazzo vai voglio? moto chiappo mette botto a nanna non so dove è la nanna ah eccola uno l'ha acceso una cosa ah vada mi da laurea bellissima Mi piacerebbe, è bello del zio Ma questo cazzo Pensate eh Non stesse a guardare Ma io non ho capito Che non ti perde una persona Oh, preso dalla trappola Ah, vada vada Anche quello è uscito dalla sessione Perché non morì La ferra è sopravvissuto in trappola Addirittura Che è successo Mi ce l'ho afferrato dalla trappola In culo Che male C'è una mucca qua Ma che cazzo è successo Boh, vabbè, penso di aver capito Ma in che senso ho riuscito a capire? Eh, perché sei mortato Ma... No, penso di aver capito Bet di Luca Si chiama qui Che ho appeso Che sei mortato Collezioni Collezioni Dieci, dieci Che le strumo Così Ah, quello di Lattiva Eh, sì C'è anche quello C'è Però quelli si comprano Ah, se comprano che i soldi reali o se comprano che i moni del mio gioco Mi sa che i soldi reali, cioè sono espansioni che si comprano I bacchetti E anche questo abbandonato Eh, eh Ti pareva Ah, non so che le canzoni reali Sì, sì Ma guarda, guarda Non si diverte a cantare le canzoni Cioè, sì Sì, io non so come cazzo uscire da... Dall'ospedale del cazzo Cioè, ma proprio sta cazzo di cosa dovevano mettermi a me C'è il bello che non vedo più nessuno adesso ma chi è che urla qua ma è pieno di buchi questo qua cazzo mi incastro sempre mi incastro tra i muri la signora non va bene questa cosa che è sempre davanti a me non va per niente bene ma diventa sempre più veloce scomparsi ah guarda è arrivato lì stanno signora venga qui signorina cazzo ho perso ho perso la tizia che sfiga mi sento un attimo dal bagno io sto in seguito a una guarda ti vuole resa il problema è dove l'aggancio ah qui ce n'è uno qui c'è un gancio anche questa esce è uscito anche lei ah no ho vinto perché con l'altro con l'altro è uscito sono usciti tutti e tre sono usciti per non per non per non perdere la partita che resta non sa cazzo giochi a fare allora scusa boh il montato sono a livello 18 adesso con il coso che è uscito ma questo qua è uscito posso segnalare perché escono fuori a comportamenti eccola qua questo poi chi è che è uscito ah tutti e tre sono usciti tranne Musu che è morto questo è il mio offro curo sanno chi è che fa di sportivo o no ok ancora non lo so gli dice che è pure la botola la bottiglia di carne che serve di catrame più se non si è piatta cosa si meno evidenti oscuro i sussori ah no questo è già fatto e vai livello 10 con il con l'assassino a tutti sono avvissuti cominciano la prova separatamente vettura se io faccio la sapere la fila la sapere la fila avviamo un attimo oh bella adesso mi sfuga non è bella lì questo mi serve allora trappole pedossi accessori potere di catrame così nessuno se le vede buono 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 questo sì che mi piace non è Non c'è nulla Poké Power, Isacco e Devdreamer. Eeeh... 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 Perché il mio c'è la canzone di Halloween? Ma sono nella casa di... No, non ci posso venire... Eeeh... È giovedì oggi, però non so il numero... Ma non posso camminare acquattato, quello... No, eh... Desee... Desee lo camminare acquattato... C'è proprio nel quartiere di Halloween sono andato a finire, oh... Già si chiama... Per il compleanno di... Adesso devo vedere... Eeeh... I cispugli che mi bloccano addirittura... Eeeh... Ti devo aspettare, Nando? Perché? Devi aspettare qualche cosa... Beh, se vuoi aspetta, però qua di dio devo finire un attimo questa... Dai ragazzo, non riesco a trovare nessuno... Questo lo trova... Vabbè... Lo colpisco, non muore... Cioè non muore... Ma perché in mano ha un... E' un altro... E' il primo... Secondo altro... Il problema è... Dove cazzo lo porto? Ah qua... Ce l'ho già qua la drappola... Eeeh... 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 ma vi devo invitare io che devo fare l'assassino e scappate via e certo perché sono moddato no Eh lo so ma strisciando deve essere Oh che figlio di puttana vado a questo che scappa E lui esce giusto A pranzo con Questo qua adesso dovrebbe morire la seconda volta con un gancho Oh che figlio di puttana vado a scendere Oh che figlio di puttana vado a scendere Oh che figlio di puttana vado a scendere Ma tu dici che si conoscono questi qua i sottavvissuti O sono giocatori casuali che non si conoscono tra di loro Cioè deve essere un air clauder praticamente Che maschetto L'hai vibrato il piede lo cazzo Aspettace O restaurando Oh che figlio di mi Ma io lo faccio Ottimo U relaxed Oh che figlio di me Ma caci tu, vuoi modi o no? Oh, che è successo? E' un altro è morto Fottili Ma te vuoi tanta tuaggio un faccio? Ma devi incassarci a prendere Ma il tatuaggio di chi? No, qualsiasi tatuaggio, una scritta, un trippale, una faccia E si vede che gli piace la faccia Ma ha mozzicato questo Dopo cosa si lamentano, eh, non è saltato al lavoro, eh, bellissima Eh, eh, quello è vero Mi ha riscatto al lavoro, Gesù Cristo mi ha picchiato Sì, sì, come vedi che c'hanno pieni pezzi Che hanno le orecchie bucate, proprio con i bugli grossi Là, con i cazzo di orecchini Orecchini, i cosi, senza estensione Là, ma cazzo si chiamano Ah, capito I caricatori, come cazzo, si chiamano Quelli grossi, capito, quale? Non riesco a trovare lavoro, poi Ti chiede, la Vittorio prenderebbe Beh, io Se avessi una ragazza così Col piercing sul naso Mamma mia, una roba Tutta tatuata Ma a me tutta tatuata non me ne frena un cazzo Però c'è, perlomeno, la faccia C'è, lascia la libra, la faccia Ti è mortato, la faccia La faccia mortata Non trovo la tizia che ho ferito, ma è strano Ti ha fatto un, due, tre stella E poi scompas Ma io ho delle trappole in mano, no? Ora si Vabbè Ho sbagliato a schiacciare, che cazzo Ma non li trovo Che cazzo è strano Comunque, pensatla Perché sono andato In una mappa di Di cosa, come è che si Di Michael Myers Quello di Halloween Perché ho sentito, appena sono intratto Ho detto Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ma te sei, cazzo Vai, c'è lui Ah, è sotto Ma scusa Ma ci sa Io ci sa Oh, salve Che comune E mi è uscita davanti Che delicente Oh è questa Così almeno ho ferito tutte e due Troia 1 e troia 2 Andò vai Che fa il giro giro d'onda Ok così Matta una Posso chiappare l'altra però Il problema è che ho le gabbie troppo lontane Una dall'altra Cioè loro se ne restano sempre qua A posta no? Non fosse una parola Che vuol dire? No no ce ne so L'entità l'ha presa Sì non ho neanche di parato un caos Mi chiede quanto c'è ci vuole per farlo Batto No che schifo Che cosa che cosa Dimmi 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 Vabbè no sta a vedere il video su Su facebook no? A Napoli no? Stanno davanti al McDonald Una sta ordinaria Alza il vestito E uno vi può mettere di compito Davanti ai cassieri E davanti a tutto quanto Che co***o è questa Franti mi accordo Eh ma Eh appunto Eh come cazzo fa A non accorgere Coppia coppia link Aspetta coppia link Forse questo qua No ma questa qua mi scappa Perché è lontani appunto Ma è lontanissimo Sto cazzo di cosa Eh non so se vuoi far vedere Io ho messo del gruppo Se vuoi aprire Ma devi gente Ma ti pensavi che io Non te chiappassi da qua È la partita più lunga Che io abbia mai fatto In vita mia A scassar cazzo Io continuo a chiapparlo Ma lo butto a terra Ma lo butto a terra E non lo faccio più Voglio vedere dove cazzo vuole andare Eh ma che cosa fai Questo cazzo che ti raccolgo Ma ti lascio a terra Deficente Perché poi lui Si divincola Si libera sempre E io arrivo sempre Lo stesso punto di prima Che c'è coltelliantro di noi Non finisce mai più la partita Già c'è storica Cazzo che cazzo non capisce in vita Che mo da Di da gialliello 32 Questo è 50 Ma da 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 impossibile Ma lascio a terra Non faccio più un calzo Aspetto finché non Finché non ne riuscire Dalla partita Ma frega il calzo Ok rimani così Rimani così Ma ti attacchi al calzo adesso Vai rimani così Vuoi giocare così Gioca così Ma che tanto E comunque è questo Cioè io non riesco a portarli A destinazione Ehi Ehi Tanto poi Non è così libera Lo stesso Ah vaffanculo Liberati coglione Adesso Eh morto Nessuno è riuscito a fuggire Ok Allora 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 a me Non mi conviene Venire Perché io cazzo buona La prima volta Che ciò Sì Ti ho fatto il tutorial Ah sì Oh no 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 Ok Ciao Ciao ELink Vediamo Oh Sì Ciao Com": Sì Grazie a tutti.